Vedete quanto è bello? Si taglia un po' di mostarda nel nostro coccodrillo, la salsa piccante della Louisiana, gli diamo una mescolata e lo lasciamo lì a insaporisse, giù la farina per fare la pastella per il nostro fritto, abbricka affumicata, aglio in polvere, un po' di timo, pizzico di origano, pepe nero e poi anche bianco, peroncino di cayenna, poco che sennò picca eh, pepe bianco. Mettiamo sta bella birra, medica la 70, mettiamo il coccodrillo nella pastella e gli fanno fare il bagnetto, stiamo giù a pregi amore amore ed ecco il coccodrillo, un po' di salsa al barman, un altro coccodrillino e giusto qualche lacrima di coccodrillo, tocca assaggiarlo colore eh, lo bucciamo una sarsietta e poi la bagniamo. Ciao!